Benvenuti, sono padre Haddad Mfanius, rettore della Basilica Santa Maria in Cosmini, dove ci siamo adesso orgogliosi in chiesa. E poi sono il procuratore del patriarca Melchita Gregorius III Lacham, che ha residenza a Damasco, perciò, per dire che noi siamo una chiesa orientale d'Antiochia. Oggi era veramente la nostra riunione per parlare della giornata internazionale o la giornata mondiale di Gerusalemme. Perché anche, ritornando al profeta, diciamo così, quello che ha avuto lo spirito di dire dal 1979 all'imam Khomeini, per dire, si vede di parlare un po' di Gerusalemme. Perché se si perde Gerusalemme, si perde tutto il Medio Oriente, la Palestina inclusa. Perché? Noi siamo adesso, siamo arrivati a affrontare un mondo di violenza e di terrorismo. Quello che l'imam Khomeini ha capito da trentina d'anni, che noi arabi, cristiani e musulmani abbiamo a Gerusalemme i nostri tesori. Sia la moschea dell'Aqsa, sia la chiesa della risurrezione di Gesù Cristo, i nostri tesori come fedeli ci chiamano per liberare Gerusalemme, tutta la Palestina, tutta la Terra Santa e tutto il Medio Oriente di ogni violenza al nome di Dio. Mai Dio ha detto di uccidere l'altro al nome suo. Mai Dio ha detto, ha dato la procura a una persona di uccidere, tagliare la gola a quello che non crede. Ma adesso io mi chiedo, questo chi taglia la gola al nome di Dio? Che Dio ha? Che Corano legge? E che valori musulmani ha? E soprattutto in questo mese, Santo Ramadan, e vediamo questi ISIS, fanno saltare le moschee al Kuwait. Uccidono i terroristi in Tunisia. Questo terrorismo non è mai e non sarà mai al nome di Dio. Noi siamo cristiani e musulmani uniti contro il terrorismo. Bismillahirrahmanirrahim, sono Abbas Di Palma. Siamo qui oggi per commemorare la giornata mondiale di Oquds, qui nella Basilica di Santa Maria in Cosmedina, a Roma. Un evento senza precedenti in Iran, qui a due passi dal Vaticano, qui con padre Haddad. Siamo stati assolutamente uniti contro Israele e contro tutte le oppressioni soprusi che succedono in tutto il vicino Oriente. E quindi speriamo e preghiamo che con questa testimonianza si possa andare avanti per un mondo migliore.